dopo Diego Godin colpo ormai praticamente indirittura d'arrivo in casa Cagliari il nuovo calciatore che sembra essere vicinissimo all'addio all'Inter è Antonio Candreva in questo caso fattore importante Candreva non sembra essere in procinto di lasciare l'Inter a parametro zero come è stato e come sarà anzi per Diego Godin che rescinderà il proprio contratto con l'Inter e si accaserà appunto a Cagliari a parametro zero nel caso di Candreva invece la Sampdoria che è la squadra attualmente forte sul giocatore non lo preleverà a parametro zero ma darà un piccolo indennizzo anche per quanto riguarda il cartellino all'Inter Candreva è stato vicino al Genoa ormai un paio di settimane fa ed è stato anche seguito a lungo dalla Fiorentina ma la squadra che sembra aver dato l'accelerata finale decisiva per portarlo tra le proprie fila come dicevo ora è proprio la Sampdoria quali sono le ultimissime novità per quanto riguarda le cifre dell'affare Candreva l'Inter ha ricevuto dalla Sampdoria un'offerta che si aggira intorno ai 2,5 milioni di euro per il cartellino dell'esterno italiano e il ragazzo, il calciatore ha ricevuto una proposta di un contratto triennale da 1,5 milioni netti all'anno appunto dalla Sampdoria ricordiamo che Candreva è un classe 1987 e quest'anno entra nell'ultimo anno di contratto in essere con l'Inter quindi 1987, 33 anni all'Inter percepisce 3 milioni annui di stipendio al momento quindi Candreva ha un anno di contratto garantito all'Inter a 3 milioni netti a stagione e una proposta sul tavolo da 1,5 milione netto all'anno dalla Sampdoria per 3 anni quindi potenzialmente un guadagno di 4 milioni e mezzo questo è il motivo di fatto per il quale Candreva sta seriamente riflettendo sulla possibilità di lasciare a Milano anche perché Antonio Conte sembra avergli fatto sapere che rispetto a quanto è accaduto quest'anno non ricoprirà più nell'Inter soprattutto grazie all'arrivo di Hakimi un ruolo da protagonista Candreva quindi è seriamente tentato da accettare la proposta della Sampdoria e l'Inter vedrebbe realizzato quindi un'altra cessione che aveva in programma di fare perché pur non essendo uno dei principali anche Candreva era comunque un esubero da dover piazzare risparmierà nel caso in cui venissero confermate queste cifre circa 5,5 milioni lordi di stipendio che appunto avrebbe garantito a Candreva ancora per un anno e incasserà 2,5 milioni di euro per il cartellino l'addio di Antonio Candreva qualora venisse confermato e queste sono le ore più calde libererà poi un nuovo arrivo che è quello di Matteo Darmian un calciatore che l'Inter ha già prenotato è una trattativa che è già stata di fatto imbastita quasi totalmente con il Parma 2,5 milioni di euro verranno versati nelle casse dei Ducali 4 anni a 2 milioni netti a stagione sono invece gli estremi del contratto che firmerà appunto l'esterno italiano verrà quindi a ricoprire il ruolo di difensore centrale in particolare ma eventualmente anche adattabile al ruolo di esterno di centrocampo sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra e di fatto un po' come è stato per l'operazione fuori Godin dentro Vidal anche in questo caso sarebbe un fuori Candreva e dentro Darmian a conferma dell'operazione ormai indirittura d'arrivo sono arrivate poche ore fa le parole del presidente della Samp Massimo Ferrero che vi mostro ora in sovrimpressione come potete vedere Ferrero conferma Candreva ci stiamo lavorando e poi notizia di mercato invece più lato Samp anche se di un ex Inter che età è nostro quindi anche il presidente della Samp Doria conferma che l'arrivo di Candreva è davvero vicino il ragazzo come vi dicevo è tentato dalla possibilità di avere un contratto triennale a fronte di un di un di un contratto invece in essere l'Inter ancora di un solo anno e l'Inter si prepara quindi a salutare l'esterno ex Lazio e ad accogliere Matteo Darmian scrivetemi quindi ragazzi nei commenti se siete contenti della Diodica Andreva e di conseguenza se siete contenti anche della probabile acquisizione di Matteo Darmian quindi mi raccomando aspetto i vostri commenti iscrivetevi anche al nostro canale YouTube siamo in diretta ogni giorno alle ore 19 e in occasione delle partite nel pre e nel post partita vi rimando poi ragazzi anche nel box descrizione trovate due link molto importanti il primo per quanto riguarda il fantacalcio abbiamo attivato la nostra lega personalizzata di Passione Inter su Fanta Paz quindi per tutti coloro che sono appassionati di fantacalcio e vogliono confrontarsi anche con la redazione di Passione Inter potete iscrivervi appunto alla nostra lega ci sono già tantissimi partecipanti e poi vi invito anche a visitare il link con tutte le informazioni per quanto riguarda il nostro Patreon che è un sistema una nuova una novità che abbiamo attivato da qualche settimana attraverso la quale potete abbonarvi al progetto Passione Inter sostenendolo e ricevere come risposta una serie di vantaggi e di contenuti esclusivi direttamente dalla nostra redazione di Passione Inter di Passione Inter di Passione Inter